Oggi questa conferenza stampa per presentare il torneo di calcio dedicato a Dodo Gabriele. Sì, continuiamo con l'iniziativa ormai da 15 anni, portiamo avanti questo torneo che è iniziato quasi sotto tono il 25 luglio del 2009 ed è poi proseguito sempre in crescendo grazie all'apporto indispensabile oramai della Lega Nazionale di Lettanti della Federazione Italiana Gioco Calcio. E' Compino Dallarigo ovviamente che è protagonista in questa organizzazione. Questo torneo serve a portare sul campo, sul campetto che era diventato maledetto dove quel 25 giugno del 2009 avvenne la tragedia, a riportare sul campo i ragazzi che hanno 11 anni come li aveva Dodo quel giorno e fargli giocare, fargli giocare con loro Dodo riportandolo alla nostra memoria, riportandolo su quel campetto e nello stesso tempo dare lezione, esempio di correttezza sul campo perché da questi ragazzi deve venire fuori un messaggio di legalità, di rispetto delle regole che poi ci servono a tutti nella vita per comportarci nel modo giusto e per impegnarci a fare in modo che tragedie come quella di Dodo non si ripetano. Naturalmente questo è servito, da quella tragedia sono nate incredibilmente delle cose belle. L'impegno dei genitori di Dodo ad andare a incontrare ragazzi adulti, andare in tutte le scuole, in tutta Italia a parlare della tragedia della loro vita ma a dare loro incoraggiamento, speranza perché le cose cambino, perché andando avanti ci sia un mondo migliore grazie all'apporto di tutti questi ragazzi che crescendo con i semi che hanno ricevuto da queste parole, da questo insegnamento, da questa storia terribile, vengano fuori degli uomini migliori, forse anche migliori di noi che non abbiamo saputo fargli trovare un mondo, una società tutta positiva, purtroppo con tante ancora cose che non funzionano. Quindi il 25 ci rivediamo, il 25 idealmente giochiamo anche noi con questi ragazzi e come ogni anno vinca il migliore ma vinca anche il più rispettoso delle regole e della giustizia.